Produrre design di qualità e alto livello, fuori dalle logiche standardizzanti della produzione industriale e del marketing fino a se stesso. Questo è l'obiettivo di Sand & Birch, che con la propria collezione di arredamento e accessori per la casa, dall'impronta raffinata, contemporanea e versatile, porta innovazione e nuovo lusso a ogni ambiente.